Si attende solo il certificato ormai per poter far ripartire la funivia del Gran Sasso dopo un lungo e complicato stop generato dall'esposto di un cittadino che aveva avanzato delle perplessità sulla sicurezza di una fune. Ieri c'è stato un vertice a Roma e sui tempi c'è un cauto ottimismo, ma emerge che ci saranno delle prescrizioni o meglio delle raccomandazioni, almeno così le ha definite l'amministratore del centro turistico Dino Pignatelli, ma questo non spegne le polemiche attorno alla funivia e al Gran Sasso in generale. Ma assolutamente non sono limitazioni, sono delle raccomandazioni, prescrizioni di raccomandazioni, perché hanno solamente evidenziato quello che già facciamo. Cioè il controllo delle funi è un obbligo dei macchinisti di farlo tutti i giorni, prima dell'apertura dell'impianto e questa è una delle prime. L'unica cosa poi è un report settimanale sulle visite, insomma niente di che. Anche sul trasporto, sulle persone da trasportare e sulle corse ci saranno novità? Sulle corse ci hanno detto 70-80 non di più persone, non 5-60, noi più di 70-75 non ne mettiamo mai, quindi hanno solamente ribadito che è quello che facciamo, quindi ce lo mettono per iscritto, quello che già facciamo prima. La velocità invece di 9 a 7 metri secondo, cosa che non siamo mai andati a 9, quindi hanno solamente messo per iscritto, metteranno per iscritto quello che già facciamo, che abbiamo sempre fatto, ma per una questione di esercizio. Sulla funivia del Gran Sasso già era stata fatta una manutenzione, poi è arrivato l'esposto che l'amministratore continua a ritenere motivato, ma le funi sono sicure, ribadisce Pignatello. L'unico aspetto che un po' preoccupa è che tra le prescrizioni ci sarebbe l'obbligo a fine stagione di cambiare le funi, una spesa da ben 3 milioni di euro. Queste funi sono sicure o no? Ma certo sono sicuro, ieri al ministero c'erano i direttori generali e direttori di zona e abbiamo chiarito un incontro tecnico con carta alla mano e gli ho dimostrato che abbiamo ragione noi. Non è che ci hanno tolto loro, loro l'hanno fatto a livello precauzionale, rischia di mettere in crisi tutto il territorio. Quindi questo esposto è stato assolutamente immotivato e ingiustificato. Comunque sul fatto della fune, quella accorciata, non c'è stata nessuna limitazione. Ieri hanno concordato che su quella non c'è nessuna limitazione. Ma a fine anno ci sarà anche l'obbligo di cambiare le funi? L'unico fatto è questo, si sono impuntati su questo fatto delle funi, ormai 40 anni, quindi sarebbe il caso di... Vediamo, intanto fra tre anni avremmo potuto cambiare lo stesso, quindi vediamo, questo potrebbe essere l'unica cosa pesante, però in qualche modo si farà.